Ragazzole ragazzole, benvenuti a tutti quanti in questo nuovissimo video di Brawl Stars, episodio numero 4! Ebbene sì ragazzi, siamo ritornati qui su Brawl Stars oggi con un episodio un po' piccante perché ho voluto iniziare per la mia primissima volta qui su Brawl Stars le ranked. Anche perché avendo giocato le solo showdown, principalmente con Emsi al grado 26, ormai praticamente è pieno di gente che team in maniera casuale ed è veramente diventato una rottura di scatole impressionante. Quindi la modalità migliore da giocare sono le 3v3 e quindi ne ho approfittato appunto per provare le ranked e devo dire ragazzi che sono davvero super divertenti perché ho scoperto che ogni partita cambia la mappa e quindi questa cosa rende il gameplay molto dinamico anche perché in base alla mappa che ti capita devi anche andare a cambiare Brawler, quindi questa cosa è fighissima. Ho fatto delle partite davvero devastanti anche se ovviamente ne abbiamo perse alcune ma qua ho messo solamente le migliori partite che appunto ho fatto in live anche perché avendo giocato con i random potete benissimo capire diciamo che persone potrei aver beccato. Quindi ragazzi mi raccomando per supportare questa serie di Brawl Stars qui su YouTube spolliciate a più in un posto a questo video, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto e vi ricordo che mi trovate in live tutti i giorni su Twitch dalle ore 17. Quindi vi aspetto anche soltanto per un saluto o se volete venirmi a fare compagnia mentre che spacca i culetti anche su Brawl Stars sapete dove trovarmi, link in descrizione. Ma ora ragazzi non partiamoci in chiacchiere e passiamo su Brawl Stars, vi auguro una buona visione. Aspetta, va così randomicamente, faccio di qua, faccio gioca, classificata, devo cliccare qui e basta? Va tutto in automatico, randomico? Ok. Faccio il knockback. Molto bene. Sono morta dalle Bron James, sono morta dalle Bron James. Prego, body fendi. Mamma mia, fortissimo. Tua madre, tua madre, Le Bron James, tua madre. Bro, la palla! Porta la palla avanti! No, vabbè. Eh sì, mo' cosa faccio con la palla lì? Ma guardo, dico, uh che bella questa palletta. Signori! Ci penso io, bitch, motherfucker. No, 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 dai a Max, sei calmo. Dov'è la palla? Piadolo, piadolo! Dai, però, non stare fermo. You can fucking do this. Come on, baby. Come on, baby. Come on, baby girl. Attenzione, Martina prende la palla. Martina fa il giro. Ci sta Le Bron James che vuole camperare. Attenzione, Martina entra. Porco D! E in questo caso chi vince? Scusatemi. Ah, ok, così va a finire. Chill. 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 Vai, 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 Max! 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 No, Max, non mi derudere! Andiamo di ultimate. Attenzione, signori! Non ci credo! Non ci credo che è poco di cura! È poco di cura! Attenzione, Martina va avanti! Martina va avanti in porta! Fa il fake! Va a sinistra! Va a destra! E fa gol, signori! Colmi messi, motherfucker! Perché ho fatto 104.000 danni? Perché il numero 104 è sempre presente, onipresente nella mia esistenza. Potevo fare 103.000, 105.000! No, 104.000! C'è una buzz. Vai, che non sono morta? No, potevano farselo! Edgar morto? Stunna anche lui? Morto anche lui? Mamma mia, ragazzi! Buzz cares the game! È stata la ulti, Buzz? Stuniamo Buzz? Ho fatto il gadget così magari posso scappare. Ok, no, siamo ancora live. Stuniamo lui? Double? Signori! Qua con Buzz, on point, eh! Proprio perfetto! Che erano scarsini, però on point! Ems, ci sa solo una Ems qua. E sono io. Allontaniamo sto coglione. È morto lui. Allontaniamo lei. Easy. Ma Ems in domini è bellissima. Cioè, ragazzi, di che stiamo parlando. Rallentiamo. Easy. Brava anche Buzz. Non riescono ad avvicinarsi, ragazzi. È letteralmente impossibile. Tanto anche se la Ems ult è inutile. Che tanto muore. Easy, ragazzi. Easy win. Nice, 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 nice. 90.000 danni, raga. Direi che non fate abbastanza. Che dite? Qua può spawn kill tra un po', eh? Ragazzi, vuoi ricompare la prima skin su Brawl Stars? Ma non so di che brawler ricomprarla. Perché quelle di Ems non è che mi facciano così tanto impazzire come skin. Mi dico la verità. Ce ne sono alcune belline, ma non in maniera proprio eccessiva, ecco. Ma mi può prendere attraverso quel personaggio? Non lo sapevo, ragazzi. Non credevo potesse prendermi attraverso. C'è sì in questa mappa comunque mi sembra... Cioè, Ems in questa mappa mi sembra veramente forte. Perché col fatto che siamo tutti quanti al centro insieme, ti giuro mi sembra proprio strasbroccata. Hashtag stop the hate. Destroyed! 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 Vai, 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 vai. 1% Molto bene. Bella partita. Anche Ems comunque questa mappa non era male. Ma andiamo a digesti che c'ho pure il perk quello lì che rallenta. Se vanno tutti quanti al centro a prendere le gemme, minchia li bombo. Ultime tora. Colt muore. Rallentiamo. Easy. Morto Colt. Ce l'avevo un po' Colt. Rallentiamo. Anzi non serve ancora. Rimettiamo la torretta. Rallentiamo. Rallentiamo la ultimate. E bro scappa. Non devi fare nulla, devi solo scappare. Bene. No, no, no. Mi ero fermata, zi. Oh Cristo Dio, no. L'ho avuto i riflessi di mettere le mani sul telefono. Ma stai trollando, zi. Lei muore. Aveva tanto le mani. Oh cazzo, ragazzi. Ci vediamo i gold in maniera abbastanza easy, vi dico la verità. Mitico. Vediamo cosa ci riserva questo star drop. Pronti? Oh. Fang. Mi mancava come brawler, quindi va bene. Cioè nel senso, finché sblocco nove i brawler mi va più che bene. Apriamo Iris. Ok. Tutti sulla torretta Non so se in realtà è ward Ma lo facciamo lo stesso Vai ragazzi Entriamo così Mi piace Molto bene Daga manca poco ragazzi La loro base è praticamente a terra Cioè non possono farcela Non rinno nemmai Bene 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 Buono anche Iris comunque Iris mi sembra sempre tipo un Iris mi sembra sempre tipo di Di safe pick Non so come spiegarvelo Non so se avete capito quello che voglio dirvi Mi sembra tipo un pick molto Cioè che vai quasi sempre sul sicuro Prima skin di Brawl Stars che compro Di Amz Perché Amz mi piace tantissimo come personaggino È molto È molto molto bella Ci sta La DJ è molto aggrisca È molto cattiva Mi piace molto l'outfit Anche le abilità Prima scioppazzata Prima scioppata E la prenderemo Tre Dos Uno Conferma Non si torna più indietro There is no turning back guys Non si torna indietro Ormai ce l'abbiamo Scherzavo Vabbè Sono un fenomeno Ragazzi What can I say Knockback Vabbè GG GG I guess GG I guess GG I guess MVP così in 30 secondi di partita ragazzi Letteralmente Con Amz Possiamo fare delle belle cose Knockback fatto Lo rallentiamo Morto lui Speriamo che mi è arrivato un attimo A sinizio a curarmi Chilliamocelo un attimo Che sono one shot Facciamo così Un po' di danni Ma che sfiga Mi è arrivato proprio il colpo In quel momento Morto lui Lo rallento Ho mandato la palla avanti Ho cercato di fare danni dopo Peccato Comunque mi salvano sempre con due di vita Le persone Hanno una fortuna Alcuni che è la ultimate Rallentiamo lui così Non si avvicina in porta Eh fa gol Ha fatto gol Eh minchia ragazzi Col fatto che ci hanno levato pure le mura È un bel bordello Sì Rallentiamo Dai raga Ora devo andare ora Ora mai più Ora mai più Sì Bravissimo Bravo Mi sa che è un bot in squadra No forse Il nome di La gente che si mette una volta E bot Ho notato Rallentiamo sto bastardo Lui muore Lui muore Lui muore anche Rallentiamo Dai cazzo Non potevo fare nulla ragazzi Ho fraggato come una maiala Minchia Forse prendiamo raga Eh promette male Promette molto male Bravo Vai Let's go Bravissimi Bel team Dai ci stava Team decente Mica 126.000 danni Ragazzi Con 10 kills Io porco Ci manca l'ultimissima Ultima partita Per fare Il diamante Uno E poi non posso andare più avanti Foot brawler Raga Prendiamoci buzz Che con buzz In questa mappa Di foot brawl Mi sono trovata molto Molto bene Vi dico la verità Morto uno Peccato Potevo fare L'ultima e zu penny Goal Let's go Con buzz Nostalgico Signori Stunnato uno Non è stesso niente Non è stesso niente Peccato però Hanno fatto gol sicuro Per forza Per forza Vai vai Porta Vai porta Oddio No un fenomeno Un fenomeno Un fenomeno Un fenomeno Un fenomeno Godo 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 Ragazzi Non ci credo Oddio Attenzione Edgar si avvicina Aspetta No Abbiamo vinto per forza Abbiamo vinto per forza Abbiamo vinto per forza Abbiamo vinto per forza Michael Nost Edgar ha fatto 104.000 danni Però 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 Sono stata l'unica A fare un gol Della madonna Specifichiamo E ce l'abbiamo Diamond 1 Signori Così Nel chilling Con i random Dopo un po' di bestemmie Dopo un po' di Dopo un po' di Blasfemie No scherzi In realtà non ho sclerato troppo Non è vero Ho sclerato tantissimo Con i random è veramente un dito In quel posto Che non posso dire Abbiamo fatto il diamante Con una partita Tranquilla in realtà Perché Non è senso Non l'abbiamo fatto troppissimo Però abbiamo fatto un bel gol Quindi il nostro Edgar ha carriato A livello di danni kill E abbiamo fatto comunque un gol Quindi ora abbiamo per la promozione Un coso mitico Giusto? Intanto ci prendiamo Il nuovo leghetto del diamond E abbiamo Lo star power Mitico Vediamo cosa ci offre Io spero che mi offra qualcosa di succulento Se no potrei Cioè se mi da tipo robe strane Bestemmie Non Non comunicherò Ok quindi noi Allora noi quindi in questo momento Sappiamo che abbiamo raggiunto Il rank più alto Che possiamo raggiungere Solamente perché Giocando da pochissimo tempo Io ho solamente 5 brawler Alla 9 Quindi diciamo che era L'obiettivo principale Che devo fare io In questo momento È quello di livellare Alti brawler Soprattutto alcuni brawler Long range Perché ne ho Ne ho sinceramente bisogno Per le ranked E quindi una volta Che ne ho 12 al 9 Posso avanzare da 4500 in su Vabbè considerate che Adesso mancano pochi giorni Per la fine della stagione Quindi i ranked Vanno restati nuovamente da 0 Però Intanto abbiamo raggiunto Il più alto Che potevamo raggiungere Giocando con i random Abbiamo avuto un po' di bestemme Con alcuni Con alcuni teammate Che veramente era meglio non avere Però abbiamo giocato molto bene Abbiamo fatto Abbiamo fatto una bella partitozza Con Abbiamo concluso Con l'ultima partita Con Buzz Con un bel gol In corner Faceva anche il secondo gol E si godeva tantissimo Ci sta Ci sta Dai ci sta Ci sta Quindi ragazzoni Se questo video di Brossal Ci è piaciuto Mi raccomando Iscrivetevi al canale Se non l'avete ancora fatto Lasciate tanti pollicioni in su E soprattutto fatemi sapere Come ho giocato il ranked Scrivendolo qui sotto nei commenti Io vi ricordo Che mi trovate tutti i giorni Live su Twitch Dalle ore 17 Quindi vi aspetto Anche soltanto per un saluto E ora ragazzi Però ci dobbiamo salutare Ma non vi preoccupate Perché chiaramente Ci rivedremo in un prossimo video Di conseguenza Dalla vostra Cronomist È tutto Bella a tutti ragazzi